Buongiorno per i ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto tra il pomeriggio e la serata di domani quando avremo l'attivazione di nuclei temporaleschi molto intensi in formazione delle Alpi, poi in estensione, in discesa su tutto il nord Italia. Ecco che a partire dalla serata e soprattutto nella nottata avremo la formazione di un vero e proprio mostro temporalesco tra Alto Piemonte e Alta Lombardia, quindi tra Varesotto, Novarese e Verbano Cusiolossola che dovrebbe scendere sulla Lombardia occidentale e il Piemonte centro-settentrionale. Proprio su queste zone e anche poi in estensione al Piemonte centrale e meridionale avremo la possibilità di grandinate di grosse dimensioni temporali davvero molto forti con nubi fragili, colpi di vento e possibili mini allagamenti o alluvioni lampo. Vi ricordo di seguire tutti i prossimi aggiornamenti.